Ma le responsabilità politiche sono ovvie, cioè, voglio dire, basta andare a guardare chi sono i proprietari del Monte dei Paschi di Siena, la fondazione del Monte dei Paschi di Siena per evidenziare il legame strettissimo che c'è tra il Partito Democratico e il Monte dei Paschi di Siena. Detto questo, che questa è una ovvietà, io vorrei aggiungere che non si tratta affatto di un caso isolato, cioè quello che è successo al Monte dei Paschi di Siena con un tempismo che evidenzia ancora una volta come in Italia ci sia una magistratura a orologeria e in questo caso specifico si vuole ledere in qualche modo al Partito Democratico per eroderne il consenso e favorire il giorno dopo le elezioni un nuovo Montibis, la riedizione del governo di Mario Monti. Se noi dovessimo andare a indagare in tutti i grandi istituti finanziari, bancari, che operano oramai in un ambito puramente finanziario, scopriremo che sono uno intasati di titoli derivati, titoli spazzatura, e due che sono anch'essi in preda a malversazioni finanziarie. Alessandro Profumo, che è diventato l'amministratore del Monte dei Paschi di Siena, prima ha fatto fallire l'Unicredit e poi per premiarlo l'hanno messo al Monte dei Paschi di Siena. Ritroviamo qualcosa di sconvolgente che tutti i veri protagonisti della finanza speculativa, nonostante i guai che combinano, sono tutti quanti premiati per quello che combinano. La vicenda del Monte dei Paschi di Siena, che nel 2007 l'ha vista nella posizione di chi ha acquistato pagando tre volte tanto l'Anton Veneta, ebbene all'epoca il governatore della Banca d'Italia è Mario Draghi, che ora è il governatore della Banca Centrale Europea, il presidente del Comitato di Controllo era Tarantola, che ora è presidente della RAI, Romano Prodi era all'epoca il presidente del Consiglio e il suo nome viene indicato come il possibile successore di Napolitano al Quirinale. Siamo in un paese alquanto stupefacente, dove da un lato abbiamo dei cittadini che si riducono sempre più a impovertà, i 12 mesi del governo di Mario Monti hanno visto raddoppiare il numero degli italiani che patisce la fame e dall'altro abbiamo questi poteri finanziari speculativi che fanno il bello e il cattivo tempo senza subire alcuna sanzione, anzi vengono premiati.